Turismo e cultura sono il patrimonio inestimabile della nostra economia. Abbiamo arte, monumenti, bellezze naturali, abbiamo Dante, Giotto, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, abbiamo città come Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Bologna, Milano, Palermo. Tutte queste cose raccolgono oltre l'80% del patrimonio culturale ed artistico del mondo. C'è bisogno però che le nostre istituzioni ne prendano atto e aiutino l'intera filiera del turismo affinché si possa diventare in tal senso leader mondiali.